zelcor presenta il diavolo di monte cristo lettura di lorenzo pieri interpretazione di il fantasma del web il fantasto mondico pilgrim e cantastorie e la musi favolista per via dei temi trattati ne sconsigliamo l'ascolto ad un pubblico minorenne o sensibile io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari esodo 23 22 l'avanscoperta del sole era un bagliore rosa intenso che cospargeva di faville la superficie del mare arrossendo le coste aspre e cespugliose dell'isola di monte cristo onde calme e sonnolente lappavano la piccola baia sassosa incastonata fra alti castelli di scogli sopra i quali le verte stavano di vedetta nella macchia di arbusti sagome di capre si spostavano fuori e dentro la vegetazione impegnate nella colazione annunciato da un crocchiare di pietrisco sotto i sandali un monaco dal saio sbiadito dal sole e dalla salsedine scendeva lungo un sentiero scavato in secoli di andirivieni degli animali seminascosto da alti cespi di erica nel pieno della loro fioritura il monaco era vecchio nessuno avrebbe mai sospettato quanto lo fosse ma si muoveva con rapidità ed energia quasi senza l'ausilio del lungo e nodoso bastone ricavato da un ramo di leccio era una figura granitica e imponente quanto l'isola stessa quasi fosse il genius loci di quel luogo inospitale ma il suo volto non recava la severità monacale che ci si attende da un'eremita era tostato dal sole mediterraneo inghirlandato da una barba d'argento che gli fioriva dalle guance e dal mento al pari di un mazzo di brugo una crimiera leonina di capelli gli si raccoglieva in una coda dietro la nuca ma a dispetto delle apparenze selvagge e austere la sua espressione era distesa e sotto alla spazzola dei baffi la bocca era inarcata nell'atto di canticchiare un motivetto un ciondolo con appesa la valva rosa di una capa santa gli rimbalzava sul pancione era felice lo era sempre quando si recava alla spiaggia con il cesto sotto al braccio pronto a colmarlo di telline granchi e se era una mattina fortunata anche qualche seppia che fluttuava nelle pozze create dalla marea che si ritirava se avesse posseduto un calendario o se non avesse smesso di curarsi dello scorrere del tempo avrebbe saputo che stava per sorgere l'alba del 28 aprile 1692 uno spicchio di sole abbagliante come oro fuso fece capolino da sotto la linea tracciata dal mar tirreno l'intenso rosa dell'aurora si stava diluendo mescolato con un azzurro lieve come sempre il monaco si tolse i sandali e avanzò verso la battigia l'acqua fredda gli rotolò sui piedi nudi dandogli un brivido che gli risalì su per le gambe facendogli emettere un risolino lisciandosi l'ampio saio sotto le natiche si sedette su uno scoglio che ormai era diventato il suo sgabello da lì aveva contemplato il sorgere di innumerevoli aurore eppure era un piacere del quale non si sarebbe mai annoiato sotto al brusio prodotto dal via vai delle onde l'orecchio del monaco avvertì un lieve scalpiccio in avvicinamento con la coda dell'occhio individuò l'allungarsi di un'ombra snella protesa contro luce indifferente al fatto che il sole sorgeva lì di fronte sul letto di granelli si proiettava una sagoma alta le braccia estese il capo ornato di corna gli uccelli si involarono tutti insieme dagli scogli starnazzando il loro improvviso terrore ma il monaco sorrise e senza staccare gli occhi bruni dall'orizzonte disse di nuovo il vecchio trucco dell'ombra trago ho smesso di spaventarmi dalmeno non ricordo più neanche da quanto si gettò un'occhiata sorgnona sopra la spalla dietro di lui non c'era una persona c'era un caprone nero il corpo possente sotto a un vello che pareva debano i cui riccioli intrappolavano il bagliore del sole nascente gli occhi erano rossi come sangue appena versato e dai loro abissi si affacciava un'intelligenza sconosciuta al regno animale e forse anche a quello umano una splendida giornata non pensi odiosa come ieri e rivoltante come sarà domani e che già nel cranio del monaco la voce roca sprezzante e infernale del capro sempre disfattista vedo era da un po che non ti facevi vivo ti mancavo per caso sono venuto a controllare che non ti fosse accaduto qualcosa vecchio che so magari ti eri rotto una gamba cadendo da uno scoglio o eri rimasto avvelenato da un frutto di mare quanta premura ridacchiò il monaco dirrimando ma sono in salute come puoi vedere per mio sommo rammarico ringhiò la voce del capro ma ormai il monaco leggeva la finzione sotto quel ruvido strato di astio andava avanti da così a lungo ormai un tempo la credine tra i due era stata sincera e lancinante ma adesso si erano abituati uno all'altro forse iniziando perfino a sviluppare un malforme affetto nei reciproci riguardi il genere di burbera simpatia che germoglia tra due spie di diverse nazioni che il fato vede agire per tanti anni sul medesimo confine scuotendo divertito il capo irsuto il monaco posò lo sguardo sullo scintillio frenetico che palpitava sopra le acque calme e trasparenti mi concederai l'onore di accettare il mio invito per pranzo? se proprio ci tieni vecchio brontolò trago agitando le fiere corna ricurve prima di voltarsi e procedere con andatura lenta e maestosa verso gli scogli sotto alle zampe ornate di zoccoli d'ossidiana l'ombra non ricalcava la forma del suo corpo assumendo il sembiante di una nube amorfa che ogni tanto si consolidava in una forma tentacolata e grottesca il monaco gonfiò l'ampio petto di frizzante brezza marina e svuotò i polmoni con un lungo lento sospiro trago non poteva capire quelle albe e quei tramonti che il monaco tanto amava erano le ancore di salvezza che lo ormeggiavano alla sanità mentale costituivano la consapevolezza dello scorrere del tempo e gli rammentavano che oltre i confini del mare il mondo era andato avanti i regni erano cresciuti e caduti i piccoli villaggi erano diventati grandi città e le grandi città erano diventate macerie vuote solo monte cristo non cambiava mai come lui e trago chinò lo sguardo sulla propria mano sinistra osservando la lunga cicatrice pallida e grinzosa che gli solcava il palmo obliquamente l'ascito del suo peccato più grande della sua colpa più imperdonabile seppur fatta con le migliori intenzioni a volte lo rimpiangeva si recava sulle antiche tombe dietro il monastero di san mamigliano dove erano sepolti i suoi confratelli e si sforzava di ricordarseli fino a quando il mal di testa non gli faceva lacrimare gli occhi volti e nomi si erano sgretolati così come le ossa in quelle sepolture e innumerevoli altri avvenimenti del passato ma non la notte trascorsa alla grotta del drago quella non avrebbe potuto scordarsela neanche se fosse vissuto per altri 955 anni isola di monte cristo anno domini 737 il timore che sarebbero tornati divenne un'orribile certezza quando al monastero giunsero le voci di certi pescatori che erano soliti gettare le reti nelle ricche acque dei golfi rocciosi stando a quanto venne riferito agli abitanti del monastero le scorribande avevano mietuto vittime recato devastazione e deportato centinaia di schiavi verso le coste del magreb nei regni dove non veniva pronunciato il nome di dio la piaga dei pirati saraceni aveva infettato tutto il mediterraneo più letale della peste e per il momento nessuno era riuscito a trovare una cura efficace per debellarla dalle acque e dai litorali cristiani simili ai lupi salpavano su agili imbarcazioni dalle loro turpi città africane oppure sciamavano dalle loro basi lungo la penisola italica saccheggiando città costiere oppure occupandole imponendo la legge e la religione islamica i loro obiettivi prediletti erano i monasteri a seguito di quegli allarmanti resoconti e memore del fatto che già più di una volta in passato la sacra pace eremitica di San Mamigliano era stata profanata da orde di predoni infedeli l'abate Lodovico da Grosseto radunò i cinque frati più anziani e tenne loro una riunione segreta nella sala dove usualmente si organizzavano i conciliaboli alla luce delle fiammelle che svettavano sulle candele di sego i volti senili dei monaci erano tutti un fremito di paura loro avevano ancora gli incubi a causa dell'ultimo assalto dei maomettani avvenuto solo dieci anni prima San Mamigliano era un piccolo luogo di culto quasi ascetico che si affacciava sulle acque turchesi eppure una sfortunata leggenda l'aveva reso uno dei bersagli prediletti dei briganti del mare ovvero quella del tesoro che secondo alcuni era stato nascosto lì da San Mamigliano in persona quando era fuggito da Palermo a causa delle incursioni dei vandali malgrado non ci fosse alcuna prova che tale favolosa ricchezza esistesse ciò non aveva scoraggiato i saraceni un decennio prima erano giunti dal mare aperto come diavoli dagli abissi infernali risalendo le cale e i sentieri quasi che fossero guidati da ispirazione demoniaca crudeli e violenti come tutte le popolazioni che avevano rifiutato di soggiacere alla parola cristiana il loro agire era stato più bestiale che umano i pochi superstiti furono quelli che grazie alle loro conoscenze dell'isola erano riusciti a nascondersi in alcune delle numerose grotte rimanendo lì insieme alle capre a pregare per i fratelli che venivano massacrati o che erano stati costretti a seguire i loro aguzzini sulle navi verso un futuro di schiavitù e maltrattamenti diavoli ecco cos'erano diavoli dal primo all'ultimo non si sarebbero accontentati di derubare quel poco che il monastero custodiva non gli sarebbe bastato orinare sugli affreschi della chiesa defecare sull'altare e sulle ostie distruggere gli orti la loro violenza inevitabilmente si sarebbe sfogata anche sui monaci inermi e sui novizi terrorizzati fratelli miei esordì Lodovico le grandi mani callose intrecciate sul ventre che tendeva il saio poco sotto la folta barba per l'indole placida la stazza imponente e la forza fisica era stato soprannominato il Bove ormai è questione di settimane forse meno ciò che ancora turba i sogni di alcuni di noi sta tornando per abbattersi su questo luogo santo sarà inevitabile la sua voce cupa e profonda alleggiò nella stanza malamente illuminata ognuno dei cinque confratelli davanti a lui reagì con sgomento i loro occhi mandavano la luce folle di un animale che presagisce la fine quando ogni via di fuga viene sbarrata preghiamo ansimò uno di loro il volto che al lume di candela pareva caglio preghiamo e digiuniamo e invochiamo il signore con tutta la nostra fede supplichiamo di non essere abbandonati a questo destino lo abbiamo fatto anche dieci anni fa fratello Silverio e che giovamento abbiamo ottenuto intervenne un monaco dall'aria torva si indicò il lato della testa dove aveva un foro circondato di cicatrici al posto dell'orecchio sinistro le preghiere per quanto devote non fermano le sciabole discorsi da miscredente squittì fratello Silverio scandalizzato queste parole saranno la nostra rovina fratello Placido presagendo che gli animi infiammati dalla paura stavano per generare l'astio l'abate si avvicinò tra i due uomini che già stavano alzando la voce posò le grosse mani sulla spalla di ognuno di loro pace fratelli pace la paura è nostra avversaria tanto quanto i saraceni entrambi avete ragione la fede ci salverà ma da sola non può bastare contro quegli uomini non sono uomini mormorò fratello Silverio sono diavoli tutti annuirono gravemente anche Lodovico non posso darvi torto fratelli per questo per la nostra salvezza si interruppe come se non trovasse la forza o il coraggio di proseguire il discorso reclinò il capo gli occhi chiusi nessuno lo incalzò gonfiò il petto e tornò a sollevare lo sguardo così come il fuoco si batte con il fuoco anche noi batteremo i diavoli con i diavoli altro silenzio si allargò tra il piccolo gruppo fratello Silverio e fratello Placido si guardarono l'un l'altro perplessi poi sul volto del monaco più anziano si dipanò una sorpresa mista a orrore no boccheggiò avvicinandosi all'abate e aggrappandosi al davanti del saio scuotendo il capo con disperazione no Lodovico tutto ma non quello forse vivremo ma al prezzo di insudiciare le nostre anime di renderle immonde agli occhi di dio ne sono consapevole fratello Teodoro fece Lodovico staccando con dolcezza le mani annaspanti del frate anziano dal proprio abito ma i mali estremi richiedono rimedi parimenti estremi solo la mia anima ne uscirà lurida in cambio della vita di tutti voi no per pietà troviamo un'altra soluzione non ci sono altre soluzioni andiamo alla grotta useremo il libro la luce sparsa dalle lanterne impugnate dai monaci illuminò l'interno della grotta scivolando sui numerosi ex voto lasciati lì da pellegrini e marinai di solito per Lodovico da Grosseto la spelonca absidata era un luogo di quiete e meditazione ma non quella notte la sola idea di estrarre uno degli oscuri tesori custoditi da secoli in quel monastero e utilizzarne i propri malefici gli dava la nausea quando San Mamiliano era fuggito dalla Sicilia aveva portato con sé anche qualcosa che se finito in mani sbagliate avrebbe potuto generare nefandezze incalcolabili il rispetto che l'uomo aveva provato per la cultura anche quella di natura tanto abietta gli aveva impedito di disfarsene e tale regola era stata scrupolosamente applicata anche dai monaci arrivati dopo di lui poiché il segreto era ereditato da abate ad abate muovendosi nel bagliore incerto del fuoco Lodovico fece scivolare la lastra che celava il ripostiglio segreto dentro la nicchia scavata nella roccia viva stava un fagotto di stoffa che sollevò posandolo su una sporgenza alle sue spalle gli altri frati anziani gli si raccolsero attorno colmi d'ansia nello slacciare le corde che chiudevano l'involto le mani del grosso abate erano impacciate dai tremiti scostò i lembi con la cautela di chi muove una pietra da sopra una vipera nella mutevole luce delle lanterne qualcosa si agitò sotto la stoffa con un movimento brulicante lodovico sussultò ritraendo le mani e altrettanto fecero i monaci dietro di lui i cui ansiti di spavento eccheggiarono sulla volta della grotta ma non c'era nulla di vivo davanti a loro era stata un'illusione indotta dall'inquietudine o forse no dentro il fagotto restavano i resti di quello che era stato un libro gli anni e i maltrattamenti di chi l'aveva posseduto prima di loro ne aveva sfasciato la rilegatura con le pagine che sfuggivano disordinatamente alcuni fogli mancavano altri erano strappati e non davano idea di essere fatti di carta sembravano sfibrati come accade alla pelle che mostruosità commentò padre Teodoro fissando il libro con ammirata orripilazione faremo meglio a dargli fuoco invece di usarlo sa Dio se hai ragione fratello purtroppo non abbiamo scelta per un istante i suoi occhi vagarono come a volersi guardare attorno si dice che un tempo San Mamiliano in questo luogo uccise un drago stanotte noi ne evocheremo uno usando solo la punta delle grosse dita Lodovico prese a sfogliare quelle pagine molli e fittamente ricoperte di scritte e illustrazioni così spaventose da fargli sgorgare sudore freddo a fior di pelle aveva dell'incredibile che quel libro fosse stato concepito da mente umana sapeva che era stato scritto da un poeta visionario di Sana tale Abd al-Zred ed era la trascrizione di orribili pratiche occulte incantesimi blasfemi e riti per evocare la progenie infernale c'era quasi dell'ironia che un trattato di turpi formule arabe venisse utilizzato da un abate cristiano contro i saraceni in buona misura il linguaggio usato su quelle pagine era incomprensibile ma alcune parti erano state tradotte in greco e Lodovico concentrò la sua attenzione su quelle fino a quando non trovò quel che faceva al caso loro faticò ad arrivare in fondo al testo aveva il fiato corto le gambe deboli di paura e ripugnanza era molto peggio di quanto credesse che il signore mi aiuti e che mi perdoni se può con occhi allucinati e il volto che grondava di sudore si voltò verso i compagni eh perdonatemi anche voi amici miei fu molto semplice in realtà come tutte le faccende sporche perverse e malvagie quel rituale sembrava nato per essere alla portata di qualunque uomo quasi fosse insito in ogni persona Lodovico era terrorizzato dal fascino di quel che stavano attuando frastornato dall'estasi oscura scaturita dal potere che riusciva ad irradiare quali terribili miracoli avrebbe potuto attuare se avesse tradotto anche il resto di quel libro trasformato i fiumi in sangue fatto cadere le stelle dal cielo riportato in vita i morti sarebbe potuto diventare un secondo tenebroso messia al quale tutti i popoli si sarebbero inchinati imperatore di tutte le terre papa di tutte le chiese avrebbe elevato i suoi alleati e abbattuto quanti gli erano odiosi alla vista così bella e così semplice era la via che conduceva a tutto il male il pugnale gli scivolò sul palmo il suo sangue schizzò copioso sulle linee e sui simboli tracciati sul pavimento sfrigolando come se l'avesse gettato sopra una stufa accesa attorno a lui nudi e con i volti contratti dall'infernale libidine i membri eretti che puntavano alla circonferenza del pentacolo sul terreno in mezzo a loro i cinque frati recitavano la formula con il medesimo ardore impiegato a declamare i salmi durante la messa anzi forse con trasporto anche maggiore e di colpo nato dal sangue di lodovico colui che avevano chiamato si materializzò facendoli cadere tutti in ginocchio al limite del deliquio il suo corpo maestoso fumava e gocciolava sulla pietra filamenti di sostanza la sua anatomia ultraterrena era tutto un fremere di branchie un palpitare di orfizi un tremito di membrane grappoli di occhi simili a perle rosse riflettevano il volto inorridito dell'abate quando parlò la sua voce fu un rombo di tuono che massacrò i pensieri di lodovico cosa chiedi tu che osi convocarmi per molto tempo l'abate fu incapace di proferire parola un funambolo sul baratro della pazzia che sente venir meno il proprio equilibrio l'essere paziente attese senza smettere di osservarlo io riuscì finalmente a dire lodovico da grosseto io ti comando e ordino di di difendere me e i miei confratelli e l'intera isola dal pericolo che incombe su di noi che che non sia versata una sola goccia di sangue cristiano l'entità emise un verso simile a una risata vicida e sangue non cristiano quello potrà essere versato disgustato da se stesso lodovico annui così sarà replicò l'essere il monaco che un tempo era stato abate del monastero di cui ora restavano solo ruderi scoprì che l'acqua gli era risalita fino quasi alle ginocchia chiuse il pugno nascondendo alla vista la cicatrice se solo fosse stato così semplice far scomparire anche i ricordi ma quelli erano parte della sua condanna la punizione per aver messo piede fuori dalla strada del signore a cosa era servito poi alzò lo sguardo le mura dell'antico luogo sacro scolorite e sommerse di erbacce erano quasi indistinguibili dal paesaggio brullo e riarso che le attorniavano neanche versare il sangue suo e altrui era bastato a evitare la fine di tutto quando i saraceni avevano dato l'assalto al monastero quasi mille anni prima la creatura aveva tenuto fede al patto stipulato e per i giorni a venire i larici si erano abbeverati di sangue infedele non erano morti tutti però ad alcuni era stata concessa la salvezza affinché riferissero cosa accadeva a coloro che osavano approdare a monte cristo con intenti malvagi per un po' aveva funzionato da deterrente all'epoca era apparso che il periodo di tregua fosse lunghissimo se non persino infinito ma adesso che valutava il tempo in tutt'altro modo a lodovico non sembrava che fosse durato poi così tanto il terrore era diventato superstizione la superstizione si era ridotta a fiaba ben presto il richiamo di facili ricchezze aveva vinto anche la paura del diavolo altri pirati molti secoli dopo avevano fatto ritorno sull'isola sotto gli ordini dell'ammiraglio Turgudali una flotta di pirati turchi al soldo della Francia scoccò un ultimo attacco devastante al monastero nel 1553 nel corso delle sue scorrerie lungo le coste tirrene da allora il sacro luogo restò vuoto e abbandonato come una delle tante conchiglie che le mareggiate depositavano sulle spiagge dell'isola l'unico ad aggirarsi entro le sue mura al pari di un misero spettro era proprio lodovico da grosseto e trago ovviamente il demone al quale il suo destino era intrecciato lo spaventoso manuale era stato molto chiaro una volta evocata l'entità sarebbe stata libera di imperversare per il mondo per impedirlo era necessario sigillarla in un dato luogo ma per farlo serviva vincolarla a colui che l'aveva richiamata da quello che l'autore denominava macroverso confinato in un aspetto di caprone impossibilitato ad utilizzare i suoi poteri il demone sarebbe rimasto inoffensivo e la sua esistenza immortale avrebbe contagiato quella dell'evocatore conferendogli l'immunità ai danni del tempo e delle malattie il loro legame si sarebbe spezzato nel caso in cui lodovico fosse morto di altra causa una ferita grave venendo ucciso o commettendo suicidio per anni trago aveva tentato di spingerlo a togliersi la vita che senso c'era nell'immortalità quando aveva la consapevolezza di aver fallito gli ripeteva a quale scopo sopravvivere a tutti i propri amici vedendoli invecchiare e morire uno dopo l'altro perdendoli non sarebbe stato più dolce il sonno eterno la beatitudine tanto cercata dai cristiani dove avrebbe potuto ricongiungersi alle anime di coloro che aveva amato lodovico aveva vissuto secoli terribili divorato da sensi di colpa malinconia e solitudine sentendosi una creatura fuori dal proprio tempo si era involuto in una bestia che vagava nuda e sporca insieme alle capre dormendo con loro all'ombra dei lecci e suggendone il latte dalle mammelle aveva percorso la corda tesa fra l'uomo e l'animale risvegliandosi a volte una cosa a volte l'altra e ogni volta trago era lì a sussurrargli le delizie della morte i vantaggi del trapasso l'anestesia del decesso di colpo un giorno la mente di lodovico era immersa da quel torpore forse aveva sbagliato aveva concesso al proprio tormentatore forse il suo non era stato un gesto cristiano aveva agito seguendo la paura mosso persino da una inconscia vena di vendetta e di rabbia nei confronti di coloro che volevano derubarli massacrarli e renderli schiavi ma se si fosse tolto la vita se avesse spezzato il legame che imprigionava trago lasciandolo libero di inquinare un mondo già intossicato di malvagità non sarebbe nuovamente caduto nell'errore un errore ancor più egoista poiché volto solo a sbarazzarsi del proprio tormento e non attuato per la salvaguardia altrui come l'ostrica che ricopre il granello di sabbia di strati e strati fino ad ottenere la perla il monaco aveva reso più saldo quell'ideale fino a che non divenne un vero e proprio scudo tornò a vivere come un uomo a pregare a coltivare la terra e trovare la bellezza e la sacralità nell'aurora nel mare nella pioggia e nel vento ogni malignità pronunciata da trago ogni suo subdolo ricatto ogni insulto si infrangeva contro la rinnovata fede del monaco quando il demone lo derideva il monaco gli rivolgeva sorrisi quando lo mortificava replicava con parole gentili se gli faceva piovere addosso critiche e accuse non provocava più lacrime e isteria ma risate di cuore e canzoni lentamente ma con costanza la situazione si era ribaltata adesso era trago quello che viveva nell'incertezza nella sfiducia e nell'autocommiserazione era lui a rifuggire il monaco che lo vincolava al mondo umano scalando i picchi di granito e insinuandosi nelle grotte per non udire la detestabile allegria dei suoi canti lo stucchevole amore che voleva elargirgli e la luce dei sorrisi che lampeggiavano fra quella folta barba una sera mentre il tramonto sprigionava una bellezza che nessuna arte dell'uomo potrebbe mai riprodurre o descrivere il monaco contemplava il sole rosso calare lentamente nel tirreno trago gli si era accostato ti odio gli aveva detto il monaco si era stretto nelle spalle possenti senza guardarlo senza mutare espressione pazienza io no invece il caprone si era impennato sulle zampe posteriori scuotendo furioso la testa cornuta ricadde pestando gli zoccoli duri e affilati a pochi centimetri dai piedi del monaco che non fremette neppure ma tu devi odiarmi perché dovrei perché io ti voglio fare del male sono finiti i giorni in cui ci riuscivi trago al più ora fai male solo a te stesso esigo che tu mi odi altrimenti altrimenti non ha senso cosa non ha senso odiare se non si è ricambiati è molto vero aveva ammesso il monaco meditabondo lisciandosi la barba indorata dal vespro beh avrei una soluzione al problema ebbene potremmo diventare amici tu e io trago aveva nuovamente scalpitato agitando la testa con maggiore energia il suo sguardo rosso sangue era colmo di disgusto ma pure di sorpresa amico tuo perché dovrei diventare amico tuo perché non posso ricambiare il tuo odio ma potrei ricambiare la tua amicizia il caprone aveva emesso un cupo belato sbuffando dalle larghe narici sei pazzo vecchio lo aveva dileggiato ma nel suo disprezzo il monaco aveva colto l'insinuarsi di una punta di divertimento su questo siamo d'accordo trago si era seduto a fianco al monaco insieme avevano ammirato il sole immergersi nel mare 2 maggio 1692 il volto giallastro della luna butterato come se avesse il vaiolo spargeva una luce così intensa da rendere praticamente inutile la lanterna che dondolava appesa al gancio di prua della barca mentre questa scivolava sulle acque nere presso le coste dell'isola di monte cristo sei persone stavano pigiate sui banchi della scialuppa due pagaiavano ingobbite le altre due che avevano remato fino a poco prima facevano riposare le braccia e le spalle indolenzite un quinto uomo si era messo in piedi la posa fiera come un conquistatore la cappa che gli ricopriva braccio e fianco sinistro lo sguardo da furetto fisso sulle scogliere imbevuto dall'arancido bagliore lunare la sua bruttezza era ancora più evidente fronte spiovente naso a rostro da sotto al quale come corna di bue sporgevano le ali di baffoni crespi color paglia la camicia gli svolazzava attorno ad un torace scarno le maniche arrotolate a mostrare avambracci olivastri pelosi coperti di tatuaggi sbiaditi e di cicatrici lasciate dalle catene a dispetto della magrezza e della bassa statura nessun uomo sano di mente avrebbe fatto saltare la mosca al naso ad angelo de cecchi detto gorpe quelle membra nervose e magre erano capaci di evocare una forza furiosa e chi aveva assistito a qualcuno dei suoi omicidi aveva l'impressione di trovarsi di fronte all'assalto di una belva i suoi occhi neri e scintillanti si distolsero dalla loro meta oltrepassando le schiene e le teste dei compari posandosi sulla figura rannicchiata a poppa era a riversa contro il bordo rialzato le lacrime che rilucevano alla luna piena le labbra sporche dell'intruglio di spezie e soporifere che l'avevano obbligata a trangugiare prima della frettolosa fuga da porto ercole laddove chiunque avrebbe visto una diciassettenne narcotizzata gorpe vedeva solo un sacco tintinnante di fiorini si trattava di bianca dei giaggioli unica figlia di una delle più ricche famiglie toscane promessa ad un esponente della casata medicea il suo rapimento era costato un anno di lavoro tra pedinamenti e raccolta di informazioni avevano dovuto corrompere diversi servi disonesti affinché tutto andasse a buon fine ma ecco che tanto sforzo era stato coronato dal successo fedele al proprio soprannome che significava volpe il criminale aveva ordito affinché circolasse fin da subito una falsa voce secondo la quale la giovane era stata condotta a grosseto in modo che a nessuno venisse in mente di spingersi verso Monte Cristo su quella roccia abitata solo dalle capre piena di grotte e di fortezze diroccate avrebbe trovato il nascondiglio perfetto in attesa del riscatto gorpe voltò il capo una caletta infissa tra alti scogli scintillava come pelle di foca ben presto la sabbia grattò lo scafo dell'imbarcazione i briganti balzarono giù trascinandola in secca il più grosso di loro si incaricò di raccogliere la ragazza stordita dal narcotico fra le braccia nel frattempo gorpe aveva sganciato la lanterna avanzando con la ghiaia che crocchiava sotto gli stivali alzò il braccio e decine di occhi si accesero nel buio brillanti come fiammelle verdi estrasse subito la pistola dalla fusciacca che gli cingeva la vita ma non fece fuoco erano solo capre ci vediamo domani a pranzo bellezze ghignò gorpe rinfoderando l'arma si guardò intorno individuò un sentiero che si inerpicava tra i cespugli probabilmente scavato dagli zoccoli degli animali fece cenno ai suoi uomini di venirgli dietro poi si incamminò come suo costume il monaco si era levato prima dell'alba era uscito con il cestino sotto al braccio e il bastone di leccio stretto nel grosso pugno mentre un grigiore polveroso annunciava l'avvento del sole percorrendo sentierini costellati dagli escrementi delle capre era sceso fino alle insenature dove gli scogli erano foderati di telline e gli anfratti pullulavano di granchi prima di diventare il sigillo di trago un lavoro del genere l'avrebbe prosciugato di tutte le forze ma l'immortalità aveva anche i suoi lati vantaggiosi non si stancava praticamente mai il sole ebbe tutto il tempo di sorgere facendo brillare le venature di quarzo che affioravano dagli scogli dopo un paio d'ore il cestino era zeppo di crostacei che sgambettavano sotto al coperchio chissà se trago si sarebbe fatto vivo per pranzo dopo la sua ultima comparsa era sparito di nuovo amava girovagare per l'isola forse pensando ai suoi perduti inferi saltellando di roccia in roccia agile come una capra dispetto della mole imponente il monaco aggirò una zona di costa molto frastagliata dove il mare era cupo per via della foresta di alghe che cresceva sul fondale doveva raggiungere la spiaggia per risalire aiutandosi col bastone aggirò un muraglione di massi costellati di cacche d'uccello procedendo con l'acqua a mezza gamba e alzando gli occhi si arrestò una barca giaceva dietro i faraglioni i remi che sporgevano all'infuori come gambe accavallate era un elemento inusuale ma non poi così unico talvolta qualche pescatore raggiungeva la costa dall'isola d'elba poiché i litorali di monte cristo erano assai pescosi inoltre nel corso dei decenni erano approdati alcuni eremiti desiderosi di un luogo solitario dove coltivare le proprie meditazioni era stato per via di quello stillicidio di visitatori se Lodovico era riuscito a tenersi più o meno aggiornato sulle trasformazioni del mondo della politica della cultura e della lingua grazie a libri e ad altri documenti reperiti da pellegrini e anacoreti aveva potuto mantenersi al passo sebbene claudicante notò un filo di fumo salire al cielo terzo sopra una macchia di pini marittimi forse quei nuovi visitatori avrebbero gradito una zuppa di granchi pensò il fatto che fosse acclimatato a lunghi periodi di solitudine non significava che disdegnasse la compagnia attraversò la spiaggia e si arrampicò sul sentierino stretto e accidentato che risaliva dalla parte opposta sentiva voci maschili scambiarsi frasi che non afferrò si inoltrò tra i fusti contorti senza far rumore per via dello strato di aghi che ricopriva il terreno intravedendo le fiammelle sprigionarsi da un piccolo falò due uomini gli davano le spalle seduti a terra a gambe incrociate di rimpetto abbandonata contro una formazione rocciosa stava una ragazza dai lunghi capelli neri avvolta in un abito da nobildonna Lodovico trassalì nel vedere che aveva i polsi legati e scivolò subito dietro un tronco giusto in tempo prima che uno dei due tipi della stazza di un orso si voltasse hai sentito ma lascia fare sarà una di quelle capre del cazzo beh mia male la figliola non la devi toccare se no golpeti in culo sì come fa con tua madre ne nacque un chiacchiericcio aspro e volgare al quale il monaco si disinteressò aveva sentito e visto abbastanza da capire la situazione posò delicatamente a terra il cesto sfilandosi i sandali attese che la conversazione salisse di tono in modo che le parole dei due malviventi coprissero il suo avvicinarsi furtivo scalzo e aiutato dagli aghi di pino non fece alcun rumore mentre procedeva cauto alle loro spalle strinse il ruvido bastone con le mani appiccicose di sudore ma levati da in culo e allungami il fiasco puttaniere che non sei altro il compare si allungò di lato verso una bottiglia e nel farlo con la coda dell'occhio vide il monaco si volse nell'istante in cui il nodo in cima al lungo bastone gli si abbatteva violentemente sulla tempia il gigante crollò di schianto a faccia in giù sul terriccio il brigante più magro si scostò con uno squittio di atterrito stupore il bastone del monaco calò sibilando anche su di lui che ebbe i riflessi più svelti rotolò di lato armeggiando con il calcio della pistola che però si impigliò nella fusciacca mentre strattonava l'arma e bestemmiava da enti stretti Lodovico gli fu addosso gli affondò la punta del bastone nello stomaco facendogli strabuzzare gli occhi con un verso sfiatato il monaco sollevò l'arma improvvisata facendola impattare con forza sotto al mento dell'avversario il colpo gli fece sputare due denti mentre si rovesciava sulla schiena privo di sensi ansimando il monaco si volse all'indirizzo della prigioniera che si era ridestata per il tafferuglio e lo fissava con occhi spalancati per l'allarme mio dio sei solo una bambina esclamò il monaco accosciandosi a lei la giovinetta si ritrasse in preda al panico no no sono amico sono un monaco spiegò Lodovico l'urgenza della situazione gli stava facendo dimenticare l'infarinatura di lingua corrente che aveva appreso come si aspettava quando estrasse il coltello dalla scarsella agganciata alla cintola la ragazzina sbiancò per corde si affrettò a chiarire Lodovico avvicinando la lama al proprio polso la paura di lei commutò incomprensione e sollievo avvicinò subito le mani al monaco che prese a strofinare il coltello sulle corde ci vollero diversi minuti o la lama si era smussata a forza di staccare patelle dagli scogli o la canapa era molto robusta quando l'ebbe liberata l'aiutò a mettersi in piedi gli passò per la testa che quella era la prima donna che vedeva da tantissimo tempo si allode a dio si inghiozzò la ragazza tremando da capo a piedi fuggiamo di qui ve ne prego i loro compagni si sono allontanati all'alba per una ricognizione potrebbero ritornare ce ne sono altri lei annui convulsamente tre e uno di loro è de cecchi lodovico non sapeva chi egli fosse ma dal terrore che vibrava nella voce della fanciulla al pronunciare quel nome intui che doveva trattarsi di un criminale pericoloso non ti accadrà nulla sei salva ripose il coltello preferiva il bastone prese la mano delicata della giovane nella propria vieni bisogna andare mentre camminava svelto tra i cespugli con la ragazzina presso la mente del monaco lavorava a pieno regime non poteva lasciare monte cristo essendo vincolato lì dal sacro voto di fare da custode a trago ma la sua conoscenza dell'isola gli dava un vantaggio indiscusso sui briganti avrebbe fatto tappa al monastero per raccogliere alcuni beni indispensabili soprattutto medicamenti per guarire i polsi martoriati dalle corde della giovane ma poi avrebbero dovuto entrambi rintanarsi in qualche spelonca la grotta del drago era troppo famosa per essere sicura ma sull'isola ve ne erano molte altre alcune assai difficili da scoprire e con al loro interno polle d'acqua dolce a fronte di qualche disagio il cibo non sarebbe stato un problema la primavera era appena iniziata generosa di bacche erbe commestibili e frutta che lui avrebbe raccolto al crepuscolo l'idea era dirigersi nella zona settentrione dove più facilmente sarebbero approdati i pescatori dall'isola d'elba molti conoscevano il monaco e avrebbero sicuramente accettato di prendersi carico della fanciulla riportandola all'affetto dei suoi cari quelle erano solo ottimistiche congetture per il momento prima dovevano raggiungere il monastero la struttura dissimulata come sempre tra rocce e arbusti diede una stretta al cuore di Lodovico l'idea di abbandonarla dopo che era stata a suo riparo per tanti secoli era straziante sperò che i briganti non infierissero su quel luogo per rivalsa contro di lui ma sapeva che probabilmente sarebbe stato così il monaco e la fanciulla tenendosi per mano si avvicinarono al portone scolorito della chiesa di pietra le ante si aprirono da sole e davanti al loro sguardo atterrito si materializzò una figura bassa scarna come la morte in certi affreschi solo gli occhi parevano recare tracce di vita ed era una vita da animale predatore to chi si rivede disse senza manifestare stupore estraendo la pistola madonna dei giaggioli i miei rispetti si infilò indice medio tra le labbra producendo un fischio acutissimo pochi istanti dopo annunciati da uno scalpiccio comparvero altri due uomini erano lordi di sangue probabilmente interrotti nell'atto di uccidere una delle caprette loro a differenza di gorpe espressero molto stupore nel vedere il monaco e la ragazza lì davanti tirando fuori le pistole presero a parlare i concitati tutti insieme silenzio cani li zitti gorpe l'ordinò senza rabbia quasi garbatamente ma fu ubbidito all'istante non staccò mai gli occhi da furetto da lodovico e bianca il monaco scivolò davanti alla giovane coprendola per intero con la sua mole è una bambina è un mucchio di fiorini ma tu non puoi capire monaco che ne è di quei due coglioni che dovevano sorvegliarla li hai uccisi monaco solo ammaccati mi piaci potrei persino farti dei nostri beh ci stai vino e puttane a non finire ci stai preferirei la morte gorpe si strinse nelle spalle magre l'avrai rispose e alzando la pistola sparò il boato riecheggiò lungo sulle scogliere unendosi allo strillo di bianca e al crepitio della conchiglia appesa al collo del monaco distrutta in mille pezzi il grosso corpo di lodovico sussultò sul faccione abbronzato non si dipinsero paura e dolore ma solo meraviglia quasi stesse provando una sensazione inconsueta crollò sulle ginocchia rantolò un'unica parola trago poi stramazzò trago sentì come se un bozzolo di corde a volte strettamente attorno a lui si fosse improvvisamente smollato di colpo ogni vincolo che lo tratteneva in quella forma e che impastoiava i suoi poteri era svanito stupore ed euforia si innalzarono nella sua mente ma quel sollievo gioioso fu tanto dirompente quanto fugace molto più fugace di quanto avrebbe mai presagito pur avendolo agognato per lunghissimo tempo lo spazio vuoto lasciato da quel sentimento si colmò di qualcosa che sulle prime non riconobbe quando trovò un nome per quel che provava la sorpresa fu quasi dolorosa era apprensione un'ansia che annullava ogni altra emozione più forte del gaudio per la ritrovata libertà più forte di tutto se lui era libero significava solo una cosa ovvero che il monaco era morto avrebbe dovuto esserne lieto deliziato e soddisfatto quale prigioniero non esulterebbe alla morte del proprio carceriere invece provava solo angoscia morto il vecchio era morto ricordò il suono che aveva riecheggiato dalla parte opposta dell'isola uno sparo senza alcun dubbio collegandolo a quando gli era successo non impiegò molto a capire forse alla fine Lodovico aveva piegato il capo alla solitudine e al logorio dell'immortalità una condizione non fatta per gli umani trago scosse la testa impossibile Lodovico non l'avrebbe mai fatto e poi da dove avrebbe preso una pistola era stato ucciso ecco la verità una rabbia pregna di sofferenza lo infiammò sorprendendolo il pensiero che il monaco non ci fosse più che non avrebbero più potuto parlare litigare odiarsi cordialmente era insopportabile ma avrebbe rimediato l'avrebbe fatto nel suo stile di notte al buio la luna ricordava a gorpe la faccia di un demone mentre la fissava seduto insieme ai compari fuori dal monastero non avevano acceso un fuoco né lanterne il bagliore giallognolo che pioveva dall'alto era abbastanza intenso da renderli inutili una brezza tiepida e salmastra faceva frusciare i cespugli si stava divinamente la prigioniera era all'interno sprofondata nel sonno artificiale del narcotico caspita c'era davvero mancato poco che tutto il piano andasse in malora per colpa di un'eremita per fortuna avevano scoperto il rudere durante la ricognizione e avevano deciso di entrare restando di stucco nello scoprirvi tracce che testimoniavano la presenza di qualcuno così erano rimasti lì attendendo che facesse ritorno ma non potevano immaginare che il monaco venisse in compagnia della loro preziosa preda beh pensarci ormai era inutile gli spiaceva solo di essere stato così frettoloso nell'ucciderlo avrebbe potuto torturarlo amava torturare la gente un trapestio lo indusse a mettere mano alla pistola il suo gesto brusco allarmò i compagni che si armarono anche loro di nuovo quelle capre sbuffò il brigante grosso abbassando la pistola diversi animali stavano uscendo da dietro gli arbusti ottimo amo le costine sghignazzò un altro massaggiandosi la pancia qui 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 caprettine le richiamò fiduciose le capre si fecero avanti gorpe aggrottò la fronte ma quante erano arrivavano da ogni dove a decine caprettine belle caprette continuò il malvivente allungando una mano e sfregando le dita callose domani vi faremo arrosto siete autente vi aprirò la gola con il mio coltello vi appenderò un albero e vi guarderò mentre vi dissanguate le la sua frase si trasformò in un latrato di dolore l'animale gli aveva morso le dita l'uomo scattò in piedi il volto contratto di rabbia ma prima che potesse fare qualsiasi cosa una delle capre lo caricò violentemente colpendolo alle ginocchia e facendolo stramazzare un attimo dopo altre bestie gli si precipitarono addosso pestandolo con gli zoccoli affondando i denti ovunque da sotto quei corpi lanosi il brigante urlava e si agitava gorpe stralumato si alzò in piedi a sua volta imitato dagli amici la mandria si contrasse attorno a loro attaccando da ogni direzione il brigante gigantesco fu abbattuto da una mezza dozzina di corna e stessa sorte toccò agli altri due sepolti sotto decine di zampe e musi mordaci girò su se stesso mezzo correndo e mezzo incespicando verso il portone della chiesa si tuffò tra le ante richiudendole subito armeggiando febbrilmente con il chiavistello oltre ai battenti proveniva lo scalpiccio furioso degli zoccoli e le grida raccapriccianti dei suoi compagni schiacciati e azzannati a morte indietreggiò nella penombra della navata tremando gli occhi allucinati di orrore e incredulità stringeva ancora la pistola ma che aiuto avrebbe potuto garantirgli quelle bestie erano almeno un centinaio un ultimo grido straziante gli martoriò le orecchie spegnendosi in un gorgoglio terribile a poco a poco ogni suono prese a smorzarsi nel silenzio che seguì Gorpe ascoltò un lento suono di passi che si avvicinavano all'uscio la luce lunare filtrava da alcune alte finestrelle riverberando sulla parete coperta da freschi sbiaditi e scindendosi in un alone soffuso e fu a quel lucore incerto che il brigante vide qualcosa che gli mozzò il respiro il chiavistello stava scivolando di lato nell'attimo in cui fece per lanciarsi a rimetterlo dov'era il portone venne spalancato con un miagolio di cardini ricalcato dalla luce lunare stava un caprone enorme ritto sulle zampe posteriori dietro di lui come un picchetto d'onore gli altri animali erano raccolti in due file perfette distinto Gorpe levò l'arma e fece fuoco ma la mano era così avvinta dai tremiti che mancò clamorosamente il bersaglio una spruzzata di schegge si liberò da una delle ante il caprone non parve accorgersene avanzò con calma i grossi zoccoli che rumoreggiavano sul pavimento gli occhi erano scarlatti come il sangue ed emanavano una luce vicida simile a quella dell'ultimo tramonto del mondo subito dopo accadde un fatto così sbalorditivo e agghiacciante che le ginocchia di Gorpe si piegarono facendolo crollare il caprone parlò hai ucciso il monaco disse trago facendosi avanti lo sguardo infuocato fisso sugli occhi lacrimanti del bandito era un grasso petulante fastidioso irritante ingenuo moralista ma era mio amico intanto la forma del capro si stava plasmando in qualcos'altro l'anatomia animale si modificò aumentando di volume ribollendo di un centinaio di piccole modifiche Gorpe del tutto impazzito contemplava quella blasfemia vivente senza accorgersi dell'orina che gli inzuppava i pantaloni lui è morto brontolò la creatura allungando i luci di tentacoli neri lentamente verso l'uomo che gli tremava davanti tu non sarai altrettanto fortunato avrebbe potuto divorarla un tempo l'avrebbe fatto si limitò invece a frugare nella sua mente stregata dalle spezie apprendendo chi fosse e cosa ci facesse lì solo una vittima amplificò il suo sonno e la portò alla cala depositandola dentro la piccola barca usata dai briganti per raggiungere monte cristo sfiorò la prua e la scialuppa scivolò sull'acqua quasi che un filo invisibile la trainasse avrebbe raggiunto la costa sana e salva tornò al monastero nel luogo dove quella banda di bastardi aveva abbandonato il corpo del monaco da morto pareva stranamente inerme quasi piccolo lo sollevò dalla polvere e dagli sterpi era così leggero nel posto dove molto tempo prima i suoi confratelli vennero sepolti trago scavò una fossa profonda lo fece con gli artigli anche se avrebbe potuto semplicemente ordinare alla terra di scostarsi foderò la tomba con uno strato di fronde di pino di erica e di leccio prima di depositarvi dolcemente il monaco accanto a lui adagiò il suo cesto i libri e altri oggetti che gli erano stati cari in vita abbassò lo sguardo sentendo un rumore strano come quello prodotto da gocce d'acqua che atterrano su una stufa accesa accanto ai suoi piedi si erano formati piccoli crateri fumanti alzò uno dei tentacoli verso gli occhi lacrime trasecolò per lo stupore non credeva di essere capace di piangere guarda come mi hai ridotto vecchio rimproverò rivolto al cadavere dovrei pisciare sul tuo corpo non piangerci sopra probabilmente se l'avesse udito il monaco avrebbe sorriso ricoprì la tomba compattando la terra per bene avvinto da un miscuglio di sensazioni che non aveva mai sperimentato prima di allora si sedette accanto alla sepoltura tornò ad essere un caprone senza quasi avvedersene aveva odiato quella forma ma adesso gli sembrava la migliore oltre l'orizzonte sbocciava un'alba di tutte le sfumature del rosa trago ammirò la luce sparpagliare le tenebre fu come se la vedesse per la prima volta a Grazie per la visione! Grazie a tutti!